Esercizio 5 di JavaScript, oggi arriviamo su uno dei miei preferiti, mi piace sempre creare cose dinamicamente, motivo per cui quello che vi chiedo di fare oggi è creare card dinamicamente da un array di oggetti. Mi spiego meglio, abbiamo un array di oggetti con dentro delle proprietà, che può essere un'immagine di background, un titolo per la card e una descrizione. Dovete mandare a schermo le diverse card, quindi come se ci arrivassero dei dati da internet, dagli API, dal server, e dobbiamo mandarla a schermo all'utente. Molto molto semplice, è veramente così facile, abbiamo del codice di partenza che vi ho già fatto, questo perché utilizzo per renderle card un po' più belle e più veloci da fare, Tailwind CSS, su cui nel momento in cui state vedendo questo video ho già fatto un corso, quindi ce l'avete già a disposizione, possiamo pure copiare il codice o questo o questo, devo andare a sostituire uno dei due, quindi abbiamo il codice, prendiamo qua lato, esercizio underscore 05.html, perfetto. Eccoci qua, quindi l'ha preso, molto molto bene. Se vi da problemi, e per caso vi da una cosa del genere, scusatemi, se vi da problemi, vi da una cosa del genere, copiare il codice, è un bug che devo sistemare, non preoccupatevi, copiatelo da questo qua, anziché da questo qua interno, lo andrò a togliere. Buono a sapersi, non me ne ero mai accorto. Quindi abbiamo il nostro codice, qua sotto c'è la soluzione, non preoccupatevi se volete vederla o vederla più avanti. Noi salviamo, e direi che possiamo far partire il nostro esercizio. Come vedete abbiamo una card di prova, che non è ovviamente responsive, chi se ne frega se non è responsive a sto giro, non siamo qua per imparare a fare CSS, siamo qua per fare JavaScript. Potremmo aggiungere eventualmente una cosa, scusatemi, o magari class bg, no vabbè, forse qua mi interessa, quantomeno sulla card potremmo aggiungere una shadow xl. Vediamo un po', perfetto. Così vedete, è una bella card, niente male, e questo è il risultato che vogliamo avere. Quindi, questa è la card di prova, noi dobbiamo generare dei dati, quindi io non ve li passo, vedete che c'è un'immagine, ok, che deve essere usata come source, la vedete come source, torniamo un attimo qua dietro, non è un problema se si vede così al momento, quello che ci interessa è fare riferimento all'HTML, quindi ci servono gli URL delle immagini, ci serve il titolo da dare alla nostra card, e poi ci serve una descrizione, ok? Quindi, come volete generare voi i dati, è irrilevante, direi che possiamo cominciare. Allora, lasciamo un attimo qua la card esempio, che poi andremo a sostituire, chiaramente, e noi vogliamo aprire il bel tag script, eccoci qua, e quello che vogliamo fare, innanzitutto, è costruire il nostro array di dati, lo potete chiamare array, lo potete chiamare data, fate come volete, lo chiamo array, tanto per, allora sappiamo che è un array di oggetti, quindi verrà fuori una cosa del genere, giusto? Tac, 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 ok, quindi cominciamo a scrivere il primo, e il primo che facciamo, abbiamo detto URL, o potete scrivere immagine, image, immagine, URL immagine, chi se ne frega, ok? Non è questo che conta. Allora, qua dentro, come URL, dobbiamo andare a prendere qualcosa, io vi consiglio Unsplash, se volete tutta roba gratuita, oppure c'è anche Freepik, io mi sono già segnato dei link, ok? Potete prenderli online, oppure potete scaricarvi l'immagine, no, non sponsor, scusatemi, potete scaricarvi l'immagine, la piazzate qua dentro e la mettete, qua è banale HTML, niente di incredibile, e mettete l'URL facendo riferimento al path HTML, che potrebbe essere tipo slash immagini, slash immagine 1, ok? Una cosa del genere, punto JPEG, JPEG. È rilevante cosa fate? Io vado per link che ho già messo, potete copiare da me, oppure tasto destro, copia indirizzo dell'immagine e siete a posto, ok? Io ho qua i link, perciò ne approfitto, bam, vado a capo, e adesso poi mettiamo il titolo, oppure possiamo chiamarlo nome, se vogliamo far finta che sia un utente, mettete quello che vuole, potrebbe essere titolo, dai facciamo titolo, e la chiamiamo una card bellissima, perfetto, e poi serve una descrizione che a sto giro renderemo molto, molto semplice, scrivendo qua dentro lorem 10, giustamente non me lo prende qua dentro, quindi cosa facciamo? Sapete cosa facciamo? È già scritto qua, tac, se volete generare lorem y velocemente, lo fate in HTML, vi mettete qua, scrivete lorem, quante parole volete, e lo prendete, ok? Noi ce l'abbiamo lì, tanto non dobbiamo mandare a schermo roba vera, quindi onestamente non conta, tac, questo qua giustamente è andato a capo, quindi gli dà problemi, potete mettere tutto su una riga, così, oppure se lo volete su più righe vi basta mettere il backtick con alt 96, guardate un po', alt 96, e potete tranquillamente andare a capo, ok? Restiamo su una riga, e va bene così, perfetto. Allora abbiamo il nostro oggetto, duplichiamolo altre due volte, ci basta fare alt maiusc e freccetta giù, per duplicarlo, fate mai almeno cambiare le immagini, tanto per gradire, vabbè sapete cosa faccio? Prendo le vostre stesse immagini, anziché, allora allarghiamo un attimo qua, facciamo tutti la stessa cosa, delle immagini belle, ok, una l'ho trovata, copia indirizzo immagine, la sbattiamo qua dentro, pam, ta 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 ta, una è andata, poi prendiamo, si deve un distinguo, devono essere anche carine, ah c'è proprio il deserto qua, va bene, facciamo questa, copia indirizzo immagine, prendiamo qua questa qua, che avevo messo, via, dopodiché ne prendiamo un'altra, scorro velocemente, il mercato mi piace, copia indirizzo immagine, qua sotto, ups non era qua sotto, ecco qua, togliamo questo, salvo, ok, possiamo riportare tutto allo stato naturale, tornare qua indietro, perfetto, e adesso abbiamo i nostri titoli, e magari facciamo, anziché una car bellissima, card 2, e poi qua facciamo car 2, se vi ricordate il cartone, perfetto, mettiamo Disney, che almeno si capisce, perfetto, quindi abbiamo i nostri dati, potete fare lunghi quanto volete, non è un problema, però abbiamo creato il nostro array di oggetto, abbiamo i nostri dati, più avanti negli esercizi li prenderemo da degli API gratuiti, o utilizzeremo dei file JSON, eccetera, eccetera, al momento va bene così, direi che possiamo proseguire, e quello che vogliamo fare è creare una card per ognuno di questi oggetti, quindi sappiamo che per ognuno si dice array.foreach, ecco qua, e per ogni data, per ogni data che abbiamo, oggetto, potete mettere obj, elemento, quello che volete, per ogni oggetto che abbiamo vogliamo fare create, oppure facciamo crea card, se volete fare in italiano, inglese, non importa, e quindi qua dentro una bella function con crea card per vedere se la chiama, il numero giusto di volte, un bel console.log, ciao, salvo, apriamo qua e vedete che ha fatto ciao tre volte, perfetto, quindi già all'inizio, non appena la pagina viene caricata, prendi i dati e li manda a schermo. Ok, questo è quello che ci interessa, apriamo magari un pelino di qua, tanto non ci serve più tutto sto spazio per il codice, e cominciamo a creare una card, allora, 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 è più un processo lungo che difficile, è più che altro è una matrioska, perché? Perché dobbiamo creare tutti questi elementi e buttarli dentro, allora, cominciamo subito. La prima cosa che vedete è che questa card, vedete ho messo qua, fine card esempio, inizio card esempio, qua c'è il container, ok? Il container è già qua, non ci interessa, ma questa parte qua verrà tutta tolta. Sappiamo che c'è un div grosso, vedete, dentro cui c'è un div più piccolo, dentro cui c'è l'immagine, poi c'è un altro div, questo lo vedete, che contiene titolo di prova e la descrizione, ok? Quindi abbiamo, e vediamolo da qua, il primo container della card, abbiamo un secondo container della card, dopodiché abbiamo l'immagine qua in alto, vedete, nel grande container, tiene sia l'immagine che tutto il resto, tutto il resto è contenuto in un altro piccolo div, vedete? Piccolo div sullo stesso livello dell'immagine, ok? Se non siete pratici di HTML e CSS, seguitemi un po' così, però in realtà se lavorate con JavaScript, a meno che lavorate solo lato back-end, il mio consiglio è migliorate anche da questo punto di vista, ok? Quindi se trovate dei punti deboli vostri durante questi esercizi, sapete dove dovete andare a lavorare. Quindi creiamo il primo div, molto facile, allora noi ci mettiamo qua, togliamo questo e facciamo un bel const card, perché è la nostra card totale, document.createelement ed è il nostro primo div, quindi lo chiamiamo div, perfetto. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo aggiungere le classi, perché vedete che ha le classi di Tailwind, chiaramente se non sapete cos'è Tailwind eccetera non preoccupatevi, ma queste classi sono classi che utilizziamo da Tailwind per creare quello che vedete. Se io togliessi le classi, vi faccio vedere, così magari mettilo, perfetto, salvo, ha ancora qualcosa, vi tolgo tutto, se no non si capisce, tac, vedete? Sono scomparse le ombre, è scomparso l'arrotondamento, è scomparso il bordo e quant'altro. Quindi questa cosa ci serve per creare lo stile, ok? Quindi queste classi a noi interessano e le vogliamo applicare. Come le applichiamo a questo oggetto? Abbiamo due metodi, card.classlist.add e qua dentro dobbiamo aggiungerlo come array, quindi dobbiamo mettere classe 1, virgola, classe altro eccetera eccetera, oppure c'è il metodo che piace di più a me, che è class name, uguale, aprite e qua dentro ci buttate quello che vi serve, ok? Così, molto più bello. Andiamo avanti, dobbiamo creare l'innerdiv e l'innerdiv è questo qua, vedete? Questo qui, forse in realtà sono stato un po' grazioso e gentile, avrei potuto fare tutto senza l'innerdiv qua, vabbè, pazienza, ormai è andata così e allora creiamo l'innerdiv, quindi const innerdiv, ma sicuramente aiuta per l'effetto materials che voglio farvi vedere, quindi innerdiv, document, punto, create element, dovete andare con una certa, con una certa, con un certo ragionamento, ok? Con un certo ordine, altrimenti vi confondete alla svelta, quindi questo è il secondo div e come abbiamo fatto per class name, scusatemi, per card facciamo innerd class name, bam, è uguale a cosa? È uguale a queste classi, perfetto, ok? Quindi siamo a posto, ma adesso come gli diciamo che questo è qua dentro? È molto semplice, vedete che questo qua, tutto questo qui è qua dentro? Togliamocelo subito dalle scatole, a me piace lavorare così, potreste prima creare tutti gli elementi e poi in finale fare la matrioska, questo dentro questo, dentro questo, dentro questo, a me piace lavorare per step onestamente, quindi è il mio modo, non c'è alcun problema, Quindi dobbiamo prendere la card e fare append child, quindi stiamo appendendo alla card, al primo div, l'inner div, perciò append child, inner div Bom, siamo andati, adesso andiamo avanti, anzi sarebbe meglio provare a vedere che cosa ci arriva, assolutamente niente, vediamo un po', Non ci arriva niente perché? Perché non abbiamo ancora appeso al body, ok? Proseguiamo, e se prendiamo questo div, adesso cosa c'è? C'è tutta sta parte qua, l'immagine col div, quindi dobbiamo creare l'immagine e il div e buttarli dentro, Quindi creiamo la nostra const, immagine, eccola qua, immagine, e andiamo a creare document, document, punto create, nominate un po', element, come si chiama, img, perché andiamo a vedere questo qua è di tipo img, molto bene, Ma dobbiamo agganciargli la source, vedete? Altrimenti è un'immagine senza niente, quindi dobbiamo fare img.src e dobbiamo dargli i dati, ma che dati dobbiamo passargli? Dobbiamo passargli questi dati, ma noi non li abbiamo ancora passati, quindi andiamo qua, li passiamo, ma questa funzione non è ancora in grado di prendere dei dati, Perciò dobbiamo dirglielo che prendi una variabile in entrata, ok? Potrebbe non essere la stessa cosa questa, qua deve essere uguale, ma qua potrebbe essere valore, ok? È rilevante, purché passi lo stesso tipo di dato che ci serve, ok? Da qua possiamo fare data.url, vedete che me l'ha trovato? Come ha fatto a trovarmelo? Data.url, se io qua faccio data.descrizione, vedete che me l'ha trovato? Quindi data.url, perché? Perché qua data fa riferimento ad ogni singolo oggetto che abbiamo, Che ha url, titolo e descrizione, ok? Quindi abbiamo la nostra immagine, e adesso dobbiamo aggiungere sicuramente, scusatemi non è img, Ehm, è immagine, ecco perché non me la colorava, poi facciamo immagine, punto, class name, tac, aggiungiamo cosa? Dobbiamo aggiungere la classe che c'è sull'immagine, vedete? Che è solo una, with full, non ve le spiego queste classi, non preoccupatevi, è tutto nel corso di tailwind, Ci vorrebbe una vita per spiegarvele, perciò lasciamo perdere. Abbiamo la nostra immagine e dobbiamo appenderla a cosa? Dobbiamo appenderla non a questo div, ma dobbiamo appenderla all'inner div, vedete? Perché questo div è già appeso, ma lei è dentro, Quindi, prendiamo inner div, inner div punto append child, e qua dentro mettiamo immagine, perfetto, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare il div che contiene titolo e paragrafo, torniamo su, lo vedete? Div, compagno di img che contiene titolo e paragrafo, Perciò, const, text container, lo chiamiamo perché contiene solo testo, è uguale a document punto create, indovinate un po', element, e qua dentro mettiamo un bel div. Adesso, text container, text container punto class name, uguale a, andiamo a prendere le classi che abbiamo qui, eccolo qua il nostro container, vedete? Bam, e qua dentro lo inseriamo, benissimo. Adesso, dobbiamo appenderlo chiaramente, lo appendiamo e poi lavoriamo sull'interno, quindi come al solito, è sullo stesso livello dell'immagine, Perciò lo inseriamo dentro l'inner, giusto? Giusto, è sullo stesso livello, lo vedete, faccio vedere, immagine e text container, ok? Quindi lo inseriamo nell'inner div, perciò, inner div punto append child, questa è la parte secondo me più complessa da capire, Cioè, fare tutte le matriosche, ricordarsi ad aggiungere le classi, creare gli elementi, aggiungerli in modo corretto, eccetera, eccetera. Secondo me questa è la parte più complessa dell'esercizio. Quindi abbiamo il nostro inner div, ok? E adesso dobbiamo cominciare a creare h3 ep, perciò const title, oppure titolo, è uguale a document punto create element. Abbiamo il nostro, dovrebbe essere un h3, let's see, perfetto, h3, prendiamo già ste classi che non voglio perdere tempo, Perciò sappiamo che dobbiamo fare titolo punto class name, e qua dentro ci mettiamo le classi. Dopodiché voi penserete di dover appendere al text container punto append child, tanto facciamolo, appendiamo titolo, Ma vi sbagliate di grosso, perché qua noi non abbiamo dentro del testo, abbiamo semplicemente un h3 vuoto, tipo se fosse così, ok? Abbiamo l'h3 ma è vuoto. Per andare a mettere testo dobbiamo creare un text node, ok? Quindi un nodo di testo, perciò title, punto, ah non title ancora, a volte parlo sempre in inglese, titolo punto append child, E qua dentro cosa mettiamo? Document punto, non create element, ma create, guardate un po', sotto, vediamo se me lo trovo, ah? Let's go, text node, non creiamo neanche la variabile, perché tanto ci serve solo qua, ok? Quindi create text node data punto titolo, andiamo a modificare che sia titolo, perfetto, quindi abbiamo preso data che ci arriva singolo, Vedete perché ci arriva per ogni for each, questo è data, ok? Questo è R e non sono un pirata, questo è R, questo è data, è il singolo dato, ok? Quindi data, titolo, e lo buttiamo qua dentro, perfetto, e anche questo è andato, ora dobbiamo fare la stessa cosa per il P, Perciò io sono confidente che prendiamo tutto, facciamo alt, maiusc, freccetta giù, è uguale, E noi scriviamo banalmente descrizione, const così, e poi qua mettiamo è un P, perché è un paragrafo, lo so a memoria, perfetto, Prendiamo le classi, non sbagliamo, ecco qua, dove sono qua le classi? Qui, e poi dobbiamo prendere data punto descrizione, bam, Assicuriamoci che cambiamo descrizione qua dal titolo, altrimenti abbiamo problemi, perfetto, abbiamo copiato la stessa cosa, E direi che noi siamo pronti se non fosse che manca un'unica cosa, ovvero dobbiamo aggiungere a cosa? A questo container, lo vedete? A questo container qua, dobbiamo aggiungere le card, perché qua dentro c'è la card, la vedete? Se noi non facciamo niente, non succede niente, ok? Fatemi intanto commentare tutto qua, vedete? È scomparsa la card, perfetto, Adesso vogliamo mandare a schermo le nostre card, per mandare a schermo le nostre card ci basta prendere questo container, Il fatto che ci serve una sola volta, non stiamo a fare la costante, eccetera, per richiamarlo, ok? Quindi banalmente document.getElementByD, sappiamo che si chiama container, container, perfetto, punto appendChild, Indovinate un po' cosa appendiamo? Appendiamo la singola card, ok? Perché la card, guardate qua, è la card che si trova dentro il container, ok? Vedete la matrioska, vediamo velocemente la matrioska, creo la card, gli assegno le classi, creo l'innerdiv, gli assegno le classi e lo butto nella card, Poi ho l'immagine che è dentro l'innerdiv e ho anche il text container, quindi le creo entrambi e li butto nell'innerdiv, ciascuno. Dopodiché nel text container ho il titolo e la descrizione, li creo, gli assegno le classi, gli metto dentro i text node che sono fondamentali, Li appendo al text container, ok? Il text container è già appeso, vedete, all'innerdiv, perciò non abbiamo problemi, Dobbiamo solo prendere la card e buttarla nel container o anche nel body, dipende come vi siete gestiti. Salvo, e vedete che siamo a posto? Fatemi allargare, ecco, non bellissima anche la descrizione, troppe parole, ah io forse ho anche zoomato, perfetto. Non incredibile come risultato estetico, però Tailwind ci ha sicuramente reso le cose un po' più facili, Lato CSS potremmo sicuramente migliorarle, ma lato JavaScript abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. In realtà potremmo dire qua MD così, così ce l'abbiamo tutto schermo small, però vabbè non è un problema, questo è Tailwind, lasciate perdere CSS, Bam, ripeto, lato CSS si può fare meglio, si può sistemare, lato JavaScript abbiamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto, Abbiamo preso dei dati, che a sto giro non sono dinamici perché non arrivano dal server, ma abbiamo preso dei dati, Abbiamo creato degli elementi che si riproducono, ok? Questo è quanto, siate molto orgogliosi di voi, sotto in descrizione come al solito trovate il link al mio sito con gli esercizi, Ce ne ho tanti, vedete? Ne ho un po' di esercizi, link ai miei altri canali, come supportare il canale, eccetera eccetera. Io vi ringrazio, e alla prossima, ciao ciao! Ciao!